Settima tappa e prima prova a cronometro dell'edizione numero 107 del Giro d'Italia. I primi 32 chilometri praticamente pianeggianti, fino al secondo rilevamento cronometrico di Ponte Valleceppi. Da lì inizierà la parte più impegnativa di questa prova contro il tempo, tutta in salita. Il primo chilometro e 300 metri veramente duro, con una pendenza media del 12%, dopo la strada continuerà a salire fino all'arrivo di Perugia.